Avviso per gli ascoltisti, ricordiamo che Bar House 1 di Leone di Lernia è scaduto, mentre il ripetito di scelire Bar House 2 è in versione GD, LB e cassetta. Ancora Leone di Lern? No Franco, non me lo dovevo fare. Bar House 2, la vendetta by Lions of Lern.